Ma che cosa fa che è una piccola, è una piccola piccola, è una piccola piccola, quindi avevo pure anche di fare danni agli altri e alla fine ho tirato tutto e non ho più niente. E' un'altra, via. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti